Allineamento, adesso più vicini tutti a rete, problemi per l'imperatore Adriano che sbaglia Gantt LB, in partenza e SuperTill SM con all'interno Forza del Pare, all'esterno il Killer Gar, all'esterno il Decio Car, poi Fedro Day con il Killer Gar che cerca di passare SuperTill SM, poi lungo la corda Forza del Pare, all'esterno il Decio Car che si trascina Fedro Day con il Killer Gar che tira fuori dal cilindro, una partenza veloce, va al comando nei confronti di SuperTill SM, poi le due Forza del Pare, il Decio Car che non sa dove andare, all'esterno viaggia Fedro Day, poi anche i Dilli OBG, primi 400 in 27.4 per il Killer Gar che è battistrada nei confronti di SuperTill, poi Forza del Pare, poi c'è un po' di onda all'esterno perché il Decio Car vuole una posizione che non ha e costringe Fedro Day a spostare all'esterno con, intanto il Killer Gar che passa i primi 600 in 43.6, adesso viene Frankie Gar che si trascina, Fedro Day in mezzo alla pista c'è i Dilli OBG, intanto il Killer Gar passa i primi 800 in 59.6, il rallentamento, il Dilli OBG va a dare una scossa alla corsa con il Frankie Gar che lo tiene in terza ruota, il Killer Gar è al comando nei confronti di SuperTill e Dilli OBG si è stoppato lì perché il Killer Gar ha allungato il chilometro in 14.4 per il Killer Gar, Frankie Gar comunque sempre all'esterno e SuperTill che lì sotto ha chiesto, poi Dilli OBG che si è rimesso in schiena ai cavalli all'attacco dell'ultima curva e Killer Gar un altro parziale in 14.5 per il Killer Gar che viene sempre la sagoma di Frankie Gar, poi è SuperTill, poi Dilli OBG, non cambia niente, il Killer Gar spende una lunghezza nei confronti di Frankie Gar, poi è SuperTill SM, i cavalli che entrano in rete d'arrivo con una curva ancora in 14.5 e il Killer Gar è battistrada, Frankie Gar che ci prova ma il Killer Gar oggi va più forte, il Killer Gar, Lorenzo Baldi sugli scudi, 5, 3 e per il terzo posto forse ancora Dilli OBG, 1.13.9, 29.3, 29.4 vince alla grande il Killer Gar che azzecca una partenza forse come mai in carriera e va a vincere nei confronti di un ottimo Frankie Gar che si prende uno stramelitato secondo posto e un altrettanto ottimo Idilli OBG che è terzo su Forza del Par e del SuperTill SM, 1.13.9 per il Killer.